Maestro Windu, hai combattuto valorosamente, degno di essere ricordato negli annali dell'Ordine dei Jedi. Ma adesso è finita. Arrendetevi e avrete salva la vita, ve lo prometto. E diventare ostaggi da scambiare mai, Dooku. Allora, mi dispiace, amico mio. Guardate! Intorno ai sopravvissuti, uno sbarramento creato. Dooku. Partire, amici. Emano. Soi, ui, conoscerei! Cuido, di diventare gully. È un pollo normale, vediamo seppruba, Dooku ripunta au postulare. Oh, R2. Ho fatto il più bizzarro dei sogni.